Diciamo che Liska oggi c'è stato superiore e quindi complimenti a loro. Sicuramente poi la partita ha preso una piega dopo due minuti per quell'errore difensivo che abbiamo fatto e quindi diventa... già era difficile perché comunque oggi nella nostra squadra mancavano già di tre pedine fondamentali quindi già era difficile venire a giocare qua a Liska senza queste tre pedine fondamentali. Poi la partita ha preso, l'avevamo preparato in un certo modo sperando pure in un contraccolpo psicologico sugli ultimi eventi che erano successi a Disca e quindi l'avevamo provato in un certo modo. E' saltato tutto il banco dopo due minuti perché è un errore difensivo che purtroppo ci può stare. Noi eravamo fino ad oggi la migliore difesa del campionato. Oggi purtroppo questo non l'abbiamo dimostrato facendo due errori gratuiti che con tutta onestà a Liska non servivano perché comunque Liska è stata quasi sempre in controllo delle partite. Ci poteva essere l'episodio del 1-1 che poteva pendere soprattutto con un contraccolpo psicologico che speravamo dalla nostra parte. Questo non è successo, oggi abbiamo pagato tazzo però il campionato è questo sappiamo che è difficilissimo. Non ci siamo mai esaltati quando il nostro percorso è stato trienfale fino a due settimane fa. Non ci abbattiamo certamente adesso però probabilmente nella nostra categoria si stanno sperando un pochettino troppi toni. Non dobbiamo mai perdere di vista che noi siamo dei dilettanti e come tali tante volte sappiamo che possiamo sbagliare invece sembra che adesso l'appellativo sbagliare, la parola sbagliare non si possa usare. Questo è un campionato molto molto competitivo perché comunque anche Liska purtroppo l'ha pagata proprio spesso domenica scorsa anche giocare in casa dell'ultimo in classifica può riservare delle insidie. Ogni domenica c'è da lottare su ogni campo. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Napoli United e le abbiamo battute però poi dopo la nostra vittoria, Napoli United ha fatto sei vittorie consecutive. Questo da un lato eleva naturalmente il nostro calcio campano, soprattutto quello del girone A. Dall'altro lato però probabilmente anche le squadre di medio livello o le squadre che vero male devono fare un percorso diverso rispetto ad altre si esaltano e poi al limite ci sta questa pressione che non aiuta nessuno. Perché noi siamo, ripeto, l'appellativo dilettante non dobbiamo mai perdere di vista. Abbiamo ragazzi che comunque possono, almeno nel nostro contesto, lavorano. Abbiamo dei ragazzi giovani under che comunque continuano ad andare a scuola, vanno all'università. Sono delle situazioni su cui bisogna un attimino riflettere. Invece adesso, tra virgolette scimmiottando anche quello che succede nelle categorie superiori, sembra che alla prima occasione si mette in discussione tutto. Il lavoro è lungo e a lungo periodo e quindi noi dovremo tutti quanti cercare un attimino di raddrizzarsi. Le ripeto, la nota positiva è che la gestione di questo nostro torneo quest'anno di eccellenza qualcuno l'ha definito una D2. Io con tutta onestà in certe partite di D vedo meno agonismo, meno qualità, meno organizzazione che in eccellenza. Non ci poniamo obiettivi, non perdendo mai di vista quello che è la nostra reale realtà, perché noi siamo una neopromossa, non abbiamo un campo di gioco, peregriniamo per tutta la provincia per poter giocare la domenica, ci alleniamo in un altro comune. Quindi sicuramente sono tutte situazioni che abbiamo messo in preventivo. Fino adesso la squadra ha retto bene l'urto, però ci rendiamo conto che noi anche numericamente non siamo una squadra che può sorpedire a tante mancanze. Ne bastano due, ieri abbiamo avuto nella rifinitura quella di Conte che era tra i titolari che però ha avuto un problema muscolare. Quindi ne bastano due o tre per cercare un attimino di metterci in difficoltà. Però la nostra dimensione, sappiamo di essere una squadra che comunque può fare il suo percorso, sicuramente ci sono delle squadre più attrezzate sia numericamente che tecnicamente rispetto a noi, ma noi questo lo sappiamo. Quindi andiamo avanti cercando un attimino di fare il miglior percorso possibile per quanto ci riguarda. Se questo ci porterà a una salvezza tranquilla, a un centro classifica, a una posizione playoff, poi lo vedremo a fine campionato. L'importante è affrontare le 34 partite che ci sono in questo campionato nel migliore dei modi possibili. Oggi probabilmente non l'abbiamo fatto.